Salve carissimi amici tutubi, sono Francesco e bentornati nella sua fitte di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla quest'oggi parliamo del topolino palindromo, il topolino 3333 che qui potete vedere ancora chiuso, incelofonato, imbustato perché ne ho comprato una copia idicola da tenere da conto un po' per collezione, un po' perché ci poteva stare comprare questo numero così un pochettino più particolare rispetto agli altri con questo effetto fluo sulle scritte che magari rende poco in copertina dietro il cellophane, soprattutto dietro la telecamera ma comunque è piuttosto carino non ho la mia versione fisica dall'abbonamento ho però letto ovviamente questo topolino nella sua versione digitale ce l'ho qui in digitale ho letto di gente molto contenta che finalmente l'abbonamento sta tornando ad arrivare di martedì nelle case degli italiani oggi sto registrando che domenica da me non è arrivato quindi per me l'abbonamento non arriva più come arrivava una volta il lunedì ma arriva il lunedì successivo quindi bisogna capire un attimo anche chi le dice le cose prima di poter essere felici o meno della situazione comunque spero arrivi la copia cartacea anche per me nel frattempo però ve ne posso parlare tranquillamente grazie all'abbonamento digitale volendo fare come il buon Fisbio del Fisbio Show lui era cominciato sicuramente con l'articolo iniziale di Alex Bertani che ci parla un po' di alcune novità che saranno presenti tra questo numero, i prossimi e poi alla futura Lucca nulla di troppo nuovo però è bello che ci siano un pochettino queste nozioni sul futuro del settimanale vi anticipo, in proprio virtù di questo che nelle prossime settimane una volta che sarà uscita anche in digitale, anteprima, 338 farò un video in cui vi parlerò un attimino di tutte quelle che dovrebbero essere a meno di strani capovolgimenti, strani ritardi le uscite presenti a Lucca Comics & Games di Topolino o comunque della famiglia Disney con alcuni miei pensieri, alcune miei opinioni e eventuali suggerimenti vi consiglio quindi di non perderlo se siete interessati ad acquistare i prodotti che saranno presenti in anteprima alla fiera o volendo per l'appunto recuperarli una volta che saranno distribuiti anche in fumetterie in edicola detto questo, passiamo alle 6 storie se non ricordo male di questo Topolino a partire dalla storia di Apertura, di Marco Gervasio per i disegni di Lorenzo Pastrovicchio ovvero sia Paperinic e la disfida di Villarosa dove eravamo rimasti con questa storia? avevamo Paperino in crisi perché Gastone aveva scoperto di essere lui il vero proprietario di Villarosa e che quindi il postino che doveva consegnare il premio si è sbagliato abbiamo Paperone e Rokredac che stanno ricercando un tesoro che per qualche motivo sanno essere nel cortile o comunque nei dintorni mesoterranei di Villarosa e pertanto vogliono acquistare a loro volta il terreno attorno a Villarosa e Villarosa stessa per poter cercare indisturbati questo tesoro e nell'episodio precedente eravamo rimasti con un Paperino che compiva anche un atto illegale tipico di Paperinic negli anni che furono quindi andare a derubare, in questo caso Rokredac e all'inizio di questo numero lo vedremo fare la stessa cosa per Zipo Perone per eliminare tutti i biglietti della lotteria che mettevano in palio nuovamente Villarosa quindi un'azione anche illegale, un furto vero e proprio ma che se in passato era per vendicare un torto subito perché nelle storie di Guido Martina era quello l'obiettivo vendicare un torto che Paperino subiva quindi nei panni di Paperinic, Paperinic poteva anche andare contro la legge per favorire una situazione un po' così in questo caso qui no, è la tutela di Paperinic che si vuole mettere al primo posto Paperinic si deve tutelare, si deve difendere Villarosa non deve finire in mano a nessun altro il problema è che anche questa situazione qui si risolve con un... nulla di fatto si poteva creare qualcosa di davvero molto interessante sotto questo profilo e invece quello che vediamo sotto questo punto di vista è molto all'acqua di rose cioè Paperino viene scoperto ma nei fatti non succede nulla ed è davvero un peccato davvero davvero un peccato Paperinic poi cercherà un attimino a sua volta di chiudere le questioni e con Rocketak e con Paperone e con Gastone quindi capire come ottenere effettivamente la proprietà di Villarosa in una maniera anche abbastanza sbrigativa per quanto efficace è riuscita non è una brutta storia, intendiamoci è una storia che secondo me aveva delle premesse molto interessanti anche sul punto di vista prettamente morale e che invece si limita a... una buona storia di intrattenimento se vogliamo imputarle un difetto è quello di essere solo una buona storia di intrattenimento con degli ottimi disegni da parte di Lorenzo Pastrovicchio che è riuscito a riportare le atmosfere urbane del personaggio dopo che l'abbiamo visto per tanti anni in una veste un pochettino più supereroistica, fantascientifica e quindi complimenti a tutti e due, ad entrambi gli autori però mi aspettavo qualcosina di più vedremo cosa succederà con la prossima storia in uscita credo a dicembre per i disegni del maestro Giorgio Cavazzano si parla di una storia molto importante per questo ciclo ci sta che questa qui fosse semplicemente un intermezzo un fillerone, una storia riuscita ma che non doveva portare avanti nessuna sottotrama vedremo dove Marco Gervaggio vuole andare a parare la storia successiva è Topolino e il condomino dei fantasmi di Pietro Bizzemelo per i disegni di Luca Usai visivamente parlando Luca Usai ha un tratto un po' particolare potrebbe non piacere di primo acchito per me è uno stile che invece affascina non è uno stile completamente pulito disneyano perché ha un po' di deformità, un po' di cose deformità sembra che siano cose brutte in realtà ha uno stile che non è proprio tondeggiante non è totalmente cartoon ma assai piacevole uno stile che a me non dispiace la storia vorrebbe essere un remake della casa dei fantasmi di Floyd Godferson direi del 36, 37, 38 quel periodo storico lì non ricordo l'anno preciso però ok, prima degli anni 40 quasi sicuramente quindi viene ripreso un classicone importante per quanto riguarda la storia disney che vedeva come assoluti protagonisti Topolino, Pippo e Paperino indagare su una casa infestata da un gruppo di fantasmi per cercare di debellare questi fantasmi stessi e Pietro Zemelo deve fare i conti con quella storia diversamente dagli altri remake finora apparsi dove si cercava di seguire pedesequamente la storia originale inserendolo in un contesto magari più quotidiano le più tradizionali Pietro sceglie di fare un processo differente prende quasi quella storia come spunto narrativo come idea narrativa in questo caso non più una villa non più una casa ma un condominio infestato da sette fantasmi anche là erano sette se non ricordo male i fantasmi nella storia originale con lo stesso cast di protagonisti chiamati ad indagare sul perché ci siano questi fantasmi quindi Topolino Pippo e Paperino Paperino richiamato in una maniera neanche troppo forzata c'è da dire che il suo inserimento che era quello che mi destava più perplessità visto che come era iniziata questa storia qui perché o se mi fai il remake di quella storia lì Paperino ce lo devi infilare per ovvi motivi per di più era la componente gag comica ci doveva essere e qui viene inserito secondo me in una maniera abbastanza sapiente con Paperone interessato a quel condominio Paperino chiamato a stare lì per capire che cosa stia succedendo e la cosa va tutto abbastanza bene se non fosse che la storia la storia originale era abbastanza più cupa di questa sì ok i fantasmi che agiscono come fantasmi che fanno le cose da fantasmi che creano tensione creano mistero c'è tutto questa cosa qui c'è tutta all'interno di questa storia contone se vogliamo un pochettino più smortati ma l'obiettivo dei fantasmi nella storia originale era un motivo che probabilmente oggi sarebbe troppo ostico da raccontare ed è un problema secondo me se comincia a essere ostico e difficoltoso parlare di certe determinate tematiche e quindi si va ad alleggerire un pochettino il tutto con quello che questi nuovi fantasmi vogliono fare che è molto più all'acqua di rose e con delle motivazioni date al chi sta pilotando il tutto sta orchestrando il tutto che ok ci stanno ci stanno però poteva essere qualcosina di più poteva secondo me doveva essere qualcosina di più pietro zemelo è sicuramente tra gli autori che mi sta piacendo di più in questo momento in campo disney tra i giovani tra non so neanche più se definirlo emergente perché è riuscito sempre a creare delle belle storie e anche in questo caso qui si deve confrontare con una storia che è un macigno della produzione disney e lo fa secondo me con sapienza non seguendo pedesiquamente quella storia per ricrearne una copia carbone ma anzi cercando di inserirne nuove tematiche nuovi sviluppi nuove idee quindi è più un omaggio alla storia originale un omaggio che però manca di una componente cattiva secondo me manca di quella componente cattiva che caratterizzava la storia originale di Floyd Godferson e che qui venendo a mancare finisce un pochettino tutto troppo a talaluce vino la risoluzione comunque è divertente è una storia che secondo me funziona e che prefigura un futuro in futuro anche possibili altri remake sotto questa forma quindi non dei remake ma degli omaggi a belle storie del passato omaggi che magari potrebbero portare anche ad una riscoperta e rilettura di questi classici cosa che sinceramente mi augurerei perché fa sempre bene ripescare da ciò che ha fatto la storia di certi media in particolare in questo caso vi sto parlando del fumetto Disney ma in particolare qualunque altro fumetto ha sicuramente un passato alle spalle che sarebbe bene invogliarne il recupero e in questo caso qui questa qui è una storia che conoscevo già quindi non devo andarla a recuperare però sicuramente potrebbe far piacere ecco riuscire a bilanciare le cose con un vi faccio un remake ma vi do anche il modo di recuperare in maniera agile quella storia in una qualche maniera quindi panini pensateci perché potrebbe non essere una brutta idea in una delle testate anche secondarie e magari è proprio qui sponsorizzarla vi faccio un esempio banale i grandi classici o i nuovi classici ci dice che pam su classici ci sarà ristampata la storia originale magari uno viene voglia di recuperarla papi michelini e donna soffritti in zio paperone il tesoro 3333 una ricerca al tesoro in una villa da parte di paperone paperino e nipotini tutta l'insegna del numero 3 non voglio dire di più di questa storia perché non ha troppo senso dire di più senza fare spoiler ma soprattutto è una storia che ricordo a metà è strano perché effettivamente sono arrivato a fare questa video opinione arrivando a questa storia e mi sono detto ma io l'ho letta questa storia sintomo che al di là dei disegni carini e credevoli di donna soffritti con uno stile molto molto personale anche qui ma molto molto piacevole la storia è una miscellanea di eventi molto semplici non sto dicendo con questo non vuole essere una critica al fatto che la storia sia brutta perché non lo è secondo me è un po' fine a se stessa è un po' questa ricerca al tesoro correlata al numero 3 per questo numero di topolino finisce però per essere una storia abbastanza dimenticabile per l'appunto non ricordavo di averla letta dopo due o tre giorni che ho finito di leggere questo topolino quindi non saprei giudicarla ecco fondamentalmente quello che posso dirvi a memoria è che ci sono alcune scene che ricordo quindi qualche flash in qua e là quindi una storia che magari è stata divertente da leggere mentre la si leggeva quindi Fabio Michelini ha saputo fare il suo certo è che fare una storia attorno al numero 3333 è un po' come le storie per i mille numeri di topolino sì magari una bella c'è le altre sono più riempitive per festeggiare questo anniversario quindi prendiamola come una storia di festeggiamento per questo traguardo che il topolino ha ottenuto non voglio quindi spero di non offendere quegli autori della storia però non mi hanno saputo coinvolgere non mi hanno saputo convincere ho trovato invece divertente e interessante gamba di legno e il mago del crimine di Alessandro Mainardi predigni di Ottavo Panaro Alessandro Mainardi è un nome che non sento spesso sul topolino quindi non so quando ha cominciato me lo sono perso io è possibilissimo Ottavo Panaro invece ha un bello stile molto classico semplice uno stile che a me piace per una storia che ho trovato divertente in cui si cerca di valorizzare il ruolo di Trudy personaggio minore secondario questo è in dubbio ma che ha uno suo spessore ha una sua personalità e in questa storia qui si cerca di svilupparla una storia che vede gamba di legno scoprire questa sorta di elisir magico che permette di fare furti incredibili e che però non ricorda di aver fatto che non ricorda come li ha effettivamente compiuti con una Trudy che indaga a sua volta e il tutto risulta come dicevo divertente semplice ma riuscito si prosegue con i corti di paperino un piccolo grattacapo di vito stabile per i disegni di Luciano Gatto una delle ultime storie presumo di Luciano Gatto che già da tempo è stato estromesso da Disney non so cosa pensare ma è una storia che non mi aspetterei da un autore come vito stabile la trama è risibile risibile abbiamo paperoga che spinge paperino a grattare la testa ad un altro quindi il grattacapo per un gioco e paperino dal momento in cui gli viene grattato il capo sente l'impulso anche per proseguire il gioco di grattare il capo qualcuno senza che la gente non è che la gente si voglia far grattare il capo da un estraneo o anche da uno che conosce non è che io vado in giro a grattare la testa a mio fratello mia sorella e miei amici ok quindi ha senso però la storia è questa non lo so mi sembra assurda penso che sia una delle tante storie magari anche è diverta intendiamoci è assurda e quindi crea contesti divertenti il finale è divertente la risata secondo me il finale la riesce a strappare però è una secondo me delle storie archiviate che non era stata pubblicata in passato e che si sta cercando di finire di pubblicare in questo periodo nulla di più che una storia che abbia qualche gag divertente chiude l'albo una storia di Gabriele Panini e Claudio Sciarroni e i disegni qui con qua è la realtà troppo reale una storia che mi ha colpito dal punto di vista grafico perché le scelte grafiche sono molto interessanti con Claudio Sciarroni che si evolve ancora con lo stile non so quando questa storia è stata fatta però ha uno stile lievemente diverso da quello delle ultime storie in cui l'abbiamo visto come disegnatore assoluto quindi non so se sia una evoluzione o se è un passaggio alla sua evoluzione digitale torna ad essere un pochettino più classico visivamente mi piace in generale Sciarroni mi piaceva anche prima mi piace in generale e quindi visivamente interessante interessante anche però quell'effetto sfocato che viene dato grazie quasi sicuramente all'effetto digitale per l'appunto di certe scene perché questa storia si basa su due piani temporali un piano reale dove ci sono i nostri che giocano o fanno cose e un piano di un videogioco dove i nostri vengono buttati a forza grazie ad un marchigegno e qui vivono questa sorta di gioco online su cellulare però dal vivo la storia in realtà non mi è piaciuta proprio a livello di sceneggiatura non mi ha detto nulla mi è sembrata quasi fare più il verso a certi videogiochi a cui giocano alcuni giovani d'oggi però facendolo in una maniera non proprio elegante magari anche un pochettino goffa quasi come se un mi è stata commissionata una storia sulla tematica dei videogiochi e studio un attimo cosa fanno cosa dicono e lo ripropongo no non mi è piaciuta come storia come sceneggiatura come frasi sembrano un po' alcune mi sono sembrate quasi buttate lì per fare qualcosa di pomposo non mi è piaciuta no a livello dal punto di vista grafico invece sì la storia è una gioia per gli occhi e mi è piaciuta molto visivamente parlando quindi sono abbastanza diviso a metà anche perché non si capisce neanche quale sia la posizione dell'autore su questa tipologia di giochi perché effettivamente era forse questo che doveva emergere non tanto il pensiero dell'autore ma un messaggio da lasciare ai giovani sui giochi online su cellulare quindi non giocateci troppo poteva essere c'è vita attorno a voi ci sono altre persone va bene colloquiare giocare con altre persone ma vedetevi state insieme agli amici era questo secondo me il messaggio che si doveva mandare ma leggendo questa storia qui non l'ho capito non ci sono arrivato ok non così non in maniera così netta e lineare un topolino che tirando un attimino le somme naviga un po' tra cose fondamentalmente non è un brutto topolino i numeri passati sono stati forse un pochettino più deludenti questo si assesta su comunque una buona media una buona sufficienza a un numero particolare che quindi mi sentirei di consigliare l'acquisto se volete un topolino che ha un numero particolare in copertina e quindi è un numero un pochettino più strambo anche a livello di storie si difendono abbastanza bene però non prendetelo come un must have con tutte storie belle indimenticabili sicuramente interessante il condominio dei fantasmi sicuramente interessante la parte finale della storia di Paperinic per il resto storie che navigano tra l'essere interessante e una buona sufficienza questo è un po' quello che avevo da dire per oggi credo di essere stato forse troppo critico nel caso aspetto vostri commenti e vostre opinioni qui sotto non lo faccio commenti quindi ditemi tranquillamente la vostra opinione qui da Francesco è proprio alle mie spalle dalla soffita di camera meno più soffita è tutto e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale ciao